Se lei ha avuto come amministratore delegato di Intesa San Paolo la capacità di trovare il mezzo miliardo che occorre per costruire un grattacielo che non si capisce bene a cosa serve, ora come ministro dei trasporti potrebbe e dovrebbe trovare il modo di difendere il servizio dei treni notturni, la cui utilità è invece nota a tutti gli italiani. E' con questa lettera indirizzata al ministro Corrado Passera che i lavoratori della ServiRail, WagonLitz, azienda che si occupa di treni notte a rischio chiusura, hanno giustificato il loro ennesimo atto dimostrativo. Dalle 20 del 21 dicembre, tre di loro occupano giorno e notte il grattacielo di Intesa San Paolo, ancora in costruzione. Siamo qui perché vogliamo delle risposte e non ce ne andremo se non ce le danno, due punti sono fermi, il punto principale è il nostro posto di lavoro, vogliamo un'occupazione, vogliamo una carenzia, che ci diano delle carenzie. E il secondo punto io lo vorrei estendere su tutti i cittadini italiani, che siamo stati, io da meridionale dico, che siamo stati privati di un diritto che erano quello dei treni sociali, hanno tolto i treni che costavano meno solo per seguire scelte di mercato che guardano soltanto le classi sociali ricche. Dall'11 dicembre i manifestanti sono senza lavoro, lasciati a casa in seguito alla scelta di Trenitalia di tagliare i treni notturni a lunga percorrenza. Il problema, hanno ricordato ieri coloro che sono saliti sul grattacielo, riguarda migliaia di lavoratori in tutta Italia. Oggi al loro presidio ha fatto visita l'assessore ai trasporti della regione Piemonte, Barbara Bonino, che si è assunta l'impegno di portare al tavolo delle discussioni la voce dei lavoratori Vagonlitz. La sopra fa molto freddo, noi ieri sera qui abbiamo patito il freddo ma loro lì c'era anche il vento, si sono portati qualcosa per coprirsi, qualche snack per mangiare, sperando che abbiano anche assistenza perché altrimenti saremmo costretti a scavalcare noi e portargli a noi l'assistenza perché appunto noi abbiamo deciso di non mollare questo presidio e ci tengo a precisarlo finché non avremo delle risposte e noi di qua non ce ne andiamo. Grazie